Nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk si festeggia. Le elezioni nella regione ucraina del Donbass, occupata da quattro anni da separatisti filorussi, sono terminate con la vittoria dei due candidati presidenti, Leonid Pasechnik a Lugansk e Denis Puscilin, proprio a Donetsk. Oggi abbiamo superato un importante esame civico e politico, ha dichiarato Puscilin durante l'ultimo comizio. Abbiamo dimostrato al mondo che non possiamo solo fare la guerra e trionfare sul campo di battaglia, ma anche costruire finalmente uno Stato sui principi fondamentali della democrazia. Queste elezioni nel Donbass sono considerate illegittime dall'Ucraina, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti. Affluenza l'80%, ma secondo osservatori internazionali, la popolazione si è ricata le urne sotto la minaccia dei Kalashnikov e ottenendo in regalo biglietti per la lotteria e ricariche telefoniche. Queste elezioni non saranno riconosciute da nessuno, dichiara il presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko. Non rispettano la legislazione ucraina e si svolgono sotto la minaccia delle mitragliatrici russe nei territori occupati. La lunga mano del Cremlino potrebbe mettere in crisi gli accordi di pace del 2015 di Minsk, in un conflitto che, secondo l'ONU, ha già causato 10.000 vittime.